Salgono ancora i contagi in Lombardia. La regione è pronta a varare nuove misure più restrittive. Intanto a Clusone annullate le cresime in seguito a un caso di positività. A Valbondione avviati i primi interventi per sistemare i danni causati dal maltempo d'inizio ottobre. Intanto i danni segnalati da comune e privati alla regione ammontano a 700 mila euro. La pandemia per ora non ferma la cultura. Nei prossimi due fine settimana le giornate del FAI d'autunno anche a Sovere. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Proseguono i controlli sul territorio da parte della Polizia Locale dell'Unione Comuni insieme sul Serio. Cinque pattuglie sono state impegnate nella serata di ieri in tutti e sei i comuni dell'Unione. Nembro, Pradalunga, Villa di Serio, Gazzaniga, Casnigo e Selvino. Particolare attenzione è stata data ai luoghi segnalati dalla cittadinanza durante gli ultimi giorni, nello specifico luoghi di ritrovo e bivacco. 93 le persone controllate e 16 le sanzioni elevate a vario titolo. Durante i controlli un cittadino italiano è stato deferito all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza con un tasso alcolemico di tre volte superiore al consentito. Il conducente ha persino rischiato di investire gli agenti in strada. Sembra infatti che le sue condizioni fisiche gli impedissero di mantenere il controllo dell'auto. Stiamo cercando di aumentare i controlli a seguito delle segnalazioni che riceviamo da parte della cittadinanza, in particolare dedicandoci al controllo di quei luoghi abitualmente frequentati da ragazzi e che creano disturbo alla quiete delle persone, spiega il comandante della Polizia Locale dell'Unione, Marco Pera. Cambiamo argomento, continuano a crescere i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, così come la percentuale rispetto ai tamponi. Nelle ultime 24 ore sono 2.419 i nuovi positivi, con 30.587 tamponi effettuati per una percentuale pari al 7,9%. In provincia di Bergamo i nuovi casi sono 38, 105 in provincia di Brescia. Il report della regione evidenzia anche un aumento dei ricoverati in ospedale, 108 in più, ma non nelle terapie intensive, dove anzi si registra un caso in meno. 334 in più i guariti e dimessi, sono invece 7 i decessi che portano il totale a 17.044. La situazione dei contagi ha spinto la regione a prevedere nuove misure anti-covid in Lombardia, in arrivo un'ordinanza con provvedimenti più restrittivi. Sentiamo Vladimir Lazzarini. Il presidente della regione Lombardia Fontana ha incontrato oggi i sindaci dei capoluoghi di provincia della Lombardia per fare il punto sulla situazione epidemiologica legata al coronavirus. All'incontro hanno partecipato anche il prefetto di Milano e i capigruppo dei partiti presenti in consiglio regionale. Al termine del confronto, durante il quale sono stati recepiti i suggerimenti dei sindaci e dei capigruppo di maggioranza e opposizione, le parti hanno condiviso unanimemente una serie di indicazioni che verranno sottoposte al Comitato Tecnico Scientifico, per essere poi formalizzate con un'ordinanza che entrerà in vigore a partire da domani, sabato 17 ottobre, e varrà sull'intero territorio regionale. L'ordinanza contiene lo stop di tutte le competizioni sportive dilettantistiche di carattere regionale, che prevedano il contatto fisico, comprese quelle dei settori giovanili. Con i sindaci è stato poi condiviso di rimodulare le regole e gli orari per bar e ristoranti, vietando altresì il consumo sul suolo pubblico. Il provvedimento della regione prevede anche la chiusura delle sale gioco, sale scommesse e sale bingo. Tutte le parti presenti all'incontro hanno poi condiviso la necessità urgente di trasmettere al governo un messaggio forte e chiaro sull'opportunità di attivare un modello scolastico che preveda lezioni a distanza alternate e lo scaglionamento dell'orario di ingresso a scuola, così da togliere pressione al sistema del trasporto pubblico locale. Analoga proposta riguarda le università per le quali si chiede la didattica a distanza ad esclusione delle matricole e dei tirocinanti. Verrà chiesto al governo anche un aumento della quota dello smart working per tutte le attività in cui questo è attuabile. Fontana ha concluso dicendo che verrà chiesto al governo di prevedere in maniera decisa e significativa risorse compensative per quelle attività economiche che inevitabilmente subiranno ripercussioni dagli esiti di questa decisione condivisa da tutti i soggetti presenti all'incontro. E naturalmente per i dettagli relativi ad esempio allo sport dilettantistico bisognerà attendere l'ordinanza della regione. E a causa del coronavirus sono state annullate le cresime a Clusone. Tutti i ragazzi che dovevano ricevere il sacramento infatti sono in quarantena fiduciari a causa di un caso positivo. Domenica 11 ottobre i cresimandi hanno partecipato a un ritiro in preparazione alla cerimonia che si doveva tenere domenica 18. Tra di loro nei giorni successivi è emerso un caso di positività al coronavirus. È scattata quindi la quarantena anche per tutti i compagni di classe alla secondaria di Clusone come vi abbiamo detto ieri. La TS ha però cercato di risalire anche a tutti i contatti del caso positivo nei giorni precedenti ed è emersa la circostanza del ritiro. Da qui la quarantena per tutti i 42 partecipanti. La parrocchia ieri sera ha comunicato alle famiglie il rinvio adatta da destinarsi delle cresime. Cambiando argomento purtroppo si fa fatica a capire cosa stia succedendo in Lombardia in vista della campagna di vaccinazioni anti-influenzali così fondamentale per riconoscere e combattere il covid-19. Da una parte ci sono le rassicurazioni della regione e dall'altra l'allarme ormai quasi quotidianamente lanciato da alcune forze politiche, sindacati e associazioni. Abbiamo cercato di capirne di più con il dottor Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo. Con Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, parliamo della campagna di vaccinazioni anti-influenzali. Ecco c'è stata un po' di confusione ultimamente. Come vedete la situazione dal vostro punto di vista? Per quanto riguarda l'organizzazione strutturale è stato fatto molto, nel senso che abbiamo un 60% dei medici che potrà fare le vaccinazioni nel suo studio, un 40% dei medici che ha dichiarato che gli studi non hanno caratteristiche adeguate per effluire il flusso in sicurezza delle persone, quindi ha chiesto la collaborazione dei comuni e direi che la collaborazione dei comuni tramite l'ATS, i comuni hanno fatto molto e hanno messo a disposizione delle strutture ed è un bel esempio di collaborazione istituzionale, quindi sotto questo profilo andrebbe anche bene. Il problema è che i vaccini arriveranno in modo estremamente lento, per cui per i problemi noti di approvviglionamento arriveranno un pochino per volta e questo creerà indubbiamente dei problemi, creerà soprattutto laddove i medici non vaccinano nel loro studio ma vaccinano fuori, perché lì ci sono degli spazi da gestire e da prenotare, quindi se ci sono le prenotazioni e per ora arrivano solo 100 vaccini invece di 200, è chiaro che se sono prenotate 200 persone non si riesce a fare i vaccini, c'è tutto un problema di priorità partendo dagli ultra 65 anni che andrà molto bene spiegato alla gente, quindi purtroppo prevedo dei disagi e bisognerà metterli in conto. L'altro ragionamento sulle vaccinazioni è che se io faccio le vaccinazioni per proteggere i fragili va bene la fornitura quando arriverà, quindi con i problemi che ho detto prima, ma se la mia idea non è solo quella di proteggere i fragili ma di diminuire le persone con la febbre bisognerebbe vaccinare anche le persone con meno di 65 anni e anche con meno di 60 anni, il problema è che questi, certo il vaccino dovrebbero pagarselo, ma non penso che sia lì il problema, il problema è che non si troverà in farmacia, perché i grandi approvvigionamenti delle regioni hanno operato il mercato dei vaccini sul circuito retail e questa cosa sarà ulteriormente problematica se l'obiettivo è quello di diminuire le persone con la febbre, poi speriamo che usando la mascherina tutti, sempre, dappertutto anche l'influenza circoli meno, come circolerà meno il Covid. Cambiamo argomento, primi interventi a Val Bondione lungo la strada provinciale per sistemare i danni causati dal maltempo di inizio ottobre, ne abbiamo parlato con la prima cittadina Romina Riccardi. Sono passati 13 giorni da quando il maltempo ha colpito duramente Val Bondione, com'è la situazione sulla strada provinciale anche rispetto al ripristino in toto della circolazione? Si percorre il tratto stradale danneggiato dal dissesto del 3 ottobre, ancora censo alternato. La provincia è già intervenuta con la ditta incaricata e sono già stati fatti gli interventi di ripristino per quanto riguarda le opere degli enti interessati, quali Uniacque e la società del gasto. Dopodiché si dovrebbe iniziare, chiaramente a giorni, con il ripristino oltre che del manto stradale anche della valle della Foga. Verranno infatti eseguite queste opere. Da prima è demolita la casetta che rimane scendendo a destra sul versante a monte. Per quanto riguarda sempre la valletta a monte, verranno costruite delle spalle nell'alvio per circa 30 metri che devono fungere da muro di riparo. Nell'alvio stesso verranno realizzate delle briglie che in gergo sono degli scalini nel quale la portata dell'acqua potrà cadere in modo regolato. Il tutto realizzato chiaramente con l'utilizzo della pietra locale. Chiaramente durante i lavori cercheremo di monitorare l'intervento, poiché a monte, sotto il salto della valle della Foga, l'importante portata d'acqua del 3 ottobre causata anche dal troppo pieno del pozzo pizzometrico dell'Avers, oltre che chiaramente dalla grande portata del maltempo, ha trascinato dei grossi tassi che quindi dovranno essere spostati o comunque messi in sicurezza. Nel frattempo avete anche quantificato i danni sia al patrimonio pubblico sia al patrimonio privato? Esattamente. Il dissesto provocato il 3 ottobre ha portato, oltre che su molte aree del patrimonio pubblico, anche su aree privati che hanno subito dei danni ingenti. Ho chiesto quindi agli stessi di protocollare una relazione con la stima del danno e queste stime sono state inserite nella scheda rasta insieme ai danni valutati sul resto del territorio. Siamo quindi addivenuti ad una cifra di oltre 700 mila euro. Abbiamo ricevuto segnalazioni che da mercoledì mattina a Clusone, la via San Defendente, senza la possibilità di telefonare con la linea fissa e collegarsi a internet, sembra a causa di un guasto. Abbiamo chiesto informazioni al Comune e dall'ufficio tecnico ci hanno risposto che il problema è stato segnalato a Telecom che peraltro stava già effettuando verifiche. Questa mattina sono iniziati gli interventi per sistemare il problema. Entro domani in tarda mattinata il servizio dovrebbe essere ripristinato. Voltiamo pagina. Il settore del turismo è senza dubbio uno dei più colpiti dall'emergenza coronavirus. Per sostenere tutti gli operatori è nata l'Associazione Turismo per l'Italia con un contributo anche bergamasco. Vediamo. A marzo Giussi Lodetti che è qui con noi ha fondato su Facebook il gruppo Partite IVA Bergamo. Da qui si è sviluppato una serie di rapporti che è arrivata anche a livello regionale e poi nazionale. Vogliamo spiegare il percorso che è nato in questi mesi? Sì, molto brevemente. A marzo durante la fase del lockdown ho creato su iniziativa mia e di un altro amico un gruppo che legava le partite IVA della provincia di Bergamo che ha raccolto nel giro di pochissimo subito circa 2000 iscritti. Visto questo seguito così veloce, così immediato c'era un momento particolare ovviamente quindi era chiaro che c'era maggiore coesione, c'era tutta una serie di problematiche da affrontare insieme nonostante ci fossero chiaramente dei mestieri delle professioni completamente diverse. Questo ha creato gruppo e siamo stati visti anche a livello nazionale da un altro gruppo di pari categoria. Abbiamo avuto tutta una serie di collegamenti, di connessioni e questo ha portato per alcune persone all'interno del gruppo che in questo momento lo stanno gestendo perché mi sono un pochino staccata, ha portato a delle evoluzioni a livello professionale. Per quel che mi concerne, io sono un agente di viaggio, sono titolare di un'agenzia di viaggi e lavoro da più di 30 anni nel settore del turismo, ha chiaramente portato degli sbocchi a livello in primis regionale perché sono diventata una delle due referenti regionali in rappresentanza delle circa 2.000, sono circa 1.980 agenzie sul territorio regionale Lombardo e quindi in questo caso ho portato avanti dei tavoli di discussioni con le regioni, con la regione, con le istituzioni chiaramente a livello locale e a livello regionale per in qualche modo cercare di dare una mano al nostro settore che è in ogni caso quello che anche ad oggi è il più difficile, il più complicato e quello che ha tutte le maggiori difficoltà a ripartire e sulla scorta di questa piccola esperienza fatta proprio a livello regionale sono stata vista e contattata da quello che è il mio attuale presidente che mi ha proposto di entrare in una nuova associazione che invece ha una portata nazionale, infatti sono una degli otto soci fondatori che il 22 di luglio a Milano ha creato l'associazione nazionale Turismo per l'Italia. Turismo per l'Italia non è un'associazione che rappresenta solo una specifica categoria ma vuole all'ambizione di rappresentare tutti i protagonisti, tutti gli attori del turismo, quindi andare veramente a fare da collettore per l'intera filiera del turismo a partire dalle agenzie, tour operator, albergatori di ogni livello quindi grandi catene alberghiere ma anche alberghi piccoli, bed and breakfast, sistemazioni extra alberghiere molto particolari, noleggi con conducente, ristorazione, tutto ciò che ha a che fare in effetti, tutto ciò che è legato al turismo c'è davvero tanto 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 e per cercare di ridare nuova dignità e nuova compattezza ad un settore che è stato particolarmente provato in questi mesi, in questi ultimi tempi ma che è effettivamente uno dei settori trainanti del nostro paese. Com'è possibile iscriversi? Allora è possibile tranquillamente andando sulla pagina nostra turismoperlitalia.it si può tranquillamente aderire sia come simpatizzanti che come soci effettivamente sostenitori dell'associazione. Speriamo di poter contare su tante adesioni quindi vi aspettiamo Restiamo in tema, ci concentriamo però sull'Alta Val Seriana, a Vivi Ardesio, l'associazione di promozione turistica del paese nei prossimi giorni farà il punto sulla propria attività. Sentiamo Il 20 ottobre alle 20.45 nella sala consigliare del comune di Ardesio l'assemblea pubblica di Vivi Ardesio Ecco, perché questo appuntamento? Quali sono gli obiettivi della serata? Allora, il 20 di ottobre facciamo l'assemblea pubblica aperta a tutti che dovevamo fare nel mese di marzo perché ovviamente non si è potuta tenere. L'assemblea pubblica è stata organizzata soprattutto per dare lettura del bilancio del 2019 e poi innanzitutto anche per fare un po' il sunto di questi primi tre anni di associazione i primi tre anni del mandato con alla guida il presidente Fabrizio Zucchelli che davvero sono stati tre anni fantastici ed è stata davvero una cavalcata impressionante anche questa nuova avventura. Vivi Ardesio è l'ufficio turistico del paese, l'ufficio è stato aperto l'8 aprile del 2017 e l'associazione è nata qualche mese prima, il 22 di novembre del 2016 quindi davvero è un'associazione nuova che si è presentata sul territorio di Ardesio per affiancare la Proloquo in comunicazione, accoglienza e per andare a segnalare quello che è Ardesio andare a promuovere le attività di Ardesio in modo davvero un pochettino più efficace e turistico. Vivi Ardesio quindi vi aspetta il 20 di ottobre per questa assemblea pubblica dove andremo anche a elencare le nuove cariche, quindi anche il nuovo direttivo come sarà composto e poi vi racconteremo quelli che sono i progetti per il prossimo triennio un prossimo triennio che ci dovrà vedere assolutamente protagonisti perché l'estate 2020 l'ha dimostrato è stata l'estate della montagna, c'è stata una richiesta incredibile di appartamenti e quindi di ricettività il nostro compito sarà quello di convincere sempre di più il cittadino adresiano a sistemare gli appartamenti e a darli in affitto ai turisti che vogliono venire nel nostro paese ma sono tante le dinamiche con cui vorremmo affrontare la serata vi invitiamo tutti i commercianti, i cittadini, i popolazione a venire a questa serata importantissima e quindi l'appuntamento alle 20.45 martedì 20 ottobre in sala consigliare Nonostante le difficoltà del periodo, ADMO continua nella sua attività di sensibilizzazione e ricerca di nuovi donatori di midollo osseo Le ultime direttive mettono un po' in difficoltà anche voi con le iniziative che avevate già in programma Corretto, il nuovo decreto ci ha messo in difficoltà perché abbiamo dovuto annullare le nostre iniziative in programma, i nostri eventi e comunque noi cerchiamo sempre di essere presenti sui social per dare all'informazione che il nostro donatore deve avere un'età tra 18 e 36 anni non compiuti deve avere 50 kg di peso, essere in buona salute, avere tanta voglia di essere d'aiuto a chi è meno fortunato di noi perché con un piccolo gesto si può salvare la vita e io chiedo ai giovani di informarsi, di non avere paura perché c'è poca informazione e uno si immagina cose che in effetti non sono Comunque il vostro principale obiettivo resta quello di cercare di aumentare la quantità dei possibili donatori Sì, il nostro obiettivo è quello di trovare un gemello identico per ogni malato per cui ci servono più giovani disposti a descriversi come potenziali donatori perché abbiamo tante donazioni dall'estero e i nostri donatori non sono sufficienti per riuscire a coprire tutte le richieste che ci sono in Italia Ogni giorno c'è un nuovo caso, ogni giorno c'è un bambino, un giovane che cerca il proprio donatore e noi dobbiamo rivolgerci all'estero Noi siamo arrivati a 172 donatori bergamaschi quest'anno sono stati 8 e ce n'è in programma una nona di donazione a novembre Però sono troppo pochi Siamo sì 15.000 e quasi 500 bergamaschi però i numeri sono pochi, sembrano tanti ma sono sempre troppo pochi Anche perché poi le statistiche dicono che poi solo poche persone vengono chiamate a donare Sì, poche persone perché la compatibilità è 1 su 100.000 e poi dipende anche in altri casi, dipende nelle città, può essere anche 1 su 200.000 per cui il numero di malati aumentando continuamente non trova un riscontro positivo tra i nostri iscritti La pandemia per ora non ferma la cultura Nei prossimi due fine settimana sono in programma le giornate del FAI d'autunno per scoprire luoghi poco conosciuti del nostro territorio A sovrae andrà in scena nel prossimo fine settimana un appuntamento importante Ci sono infatti le giornate del FAI d'autunno Ma qual è la formula del tempo del Covid? La formula del tempo del Covid è visitare bellezze straordinarie in totale sicurezza Per questo motivo il prossimo fine settimana saremo a Sovere Quello successivo saremo a Gorlago Perché tanti volontari possano gestire ordinatamente l'afflusso del pubblico Un pubblico che noi invitiamo a prenotarsi online sul sito www.giornatefai.it In modo tale da scegliere l'orario in cui andranno alla scoperta delle bellezze di Sovere nel primo fine settimana E quindi scegliere quando vedere Palazzo Silvestri Quando fare la passeggiata nel borgo di San Martino E quando salire al santuario della Madonna della Torre Il santuario qualcuno lo conosce Per chi non lo conoscesse venga a vederlo È stupefacente Opere dei Fantoni Opere di Cavagna Straordinari stucchi degli stessi maestri che hanno stuccato Santa Maria Maggiore Opere ligne incredibili Affreschi tardoquattrocenteschi Nel borgo di San Martino La chiesa parrocchiale con il fantastico Moroni La trasfigurazione L'anno prossimo festeggeremo i 500 anni di Moroni Beh, cominciamo a gustare una delle sue opere sacre più belle O la Cappella degli Affreschi, completamente affrescata nel 1517 Sconosciuta perché sempre chiusa Palazzo Silvestri, Palazzo Longhini, case private O ancora la chiesa, la chiesetta dedicata alle anime purganti E poi Palazzo Silvestri La meravigliosa scuola, l'istituto comprensivo di Sovere Che apre le sue porte Coperta di affreschi che richiamano l'unità d'Italia e gli ideali nazionali Perché a Sovere c'era un grande patriota, Silvestri Che ha voluto omaggiare nel 1861 la ritrovata unità del Paese Tutto ciò condotto dagli apprendisti ciceroni dell'istituto Fantoni di Clusone Che hanno anche questa volta voluto collaborare con la delegazione di Bergamo del FAI Una gestione in assoluta sicurezza Gruppi di massimo 15 persone Con partenze scandite ogni 20 minuti Chi si presenterà senza prenotazione sarà filtrato Gli verrà proposto di partecipare ad una visita guidata nel primo orario disponibile E verrà poi invitato a tornare Questa volta non saremo orgogliosi di avere code Non le vogliamo perché vogliamo evitare gli assembramenti È bello comunque passeggiare per Sovere Attenderanno con tranquillità di arrivare al turno che gli è stato assegnato Chi invece prenota si può presentare all'orario esatto Se ci fosse brutto tempo non sta neanche al freddo Perché arriva nel momento giusto E di conseguenza ci aiuta nell'offrire questa grande opportunità Di scoprire in un momento comunque complesso per il nostro Paese Dei luoghi che sono meravigliosi Luoghi dove le persone si sono rese disponibili Dove i volontari locali, l'amministrazione, la parrocchia, l'istituto comprensivo Hanno deciso di accogliere i visitatori Perché la nostra Bergamo, la nostra provincia di Bergamo Ha tantissimo da raccontare e offrire E lo facciamo con grande passione La passione della nostra fondatrice Scomparsa poche settimane fa E che per decenni ha combattuto Per far conoscere le bellezze d'Italia E per difenderle da interventi a volte sceglierati Ecco, Sovere è un esempio virtuoso Vedremo cose molto belle E cose recuperate magnificamente E adesso il calcio dilettantistico Turno infrasettimanale Ieri per il girone F di prima categoria Sentiamo com'è andata nel servizio di Arnaldo Guadagni Sulle immagini della partita Sovere la Torre Si è svolta ieri la quarta giornata del turno di prima categoria Girone F Turno infrasettimanale Che ha visto scendere in campo quasi tutte le formazioni Accetto la partita fra Paladina e Virtuoso Che è stata rimandata per motivi sanitari Una sola vittoria esterna Quella della capolista Gorle sul campo del Villadogna Per due reti a zero E l'altra capolista la Torre del Rovi Batte nettamente l'Aurora Seriate Per quattro reti a due La prima in segretizia di queste due formazioni È la squadra del sovra Nata da Fiorenza Giorgi Che in casa ha regolato per tre reti a zero Poi ci sono stati diversi pareggi Altra partita o altro risultato di spicco Quello della Falco Che batte in casa la nuova Cavallina Per tre reti a due Come l'Atletico Sarnico Che ha battuto il Grassobio Per quattro reti a zero Era l'ultimo servizio Adesso i programmi su Antenna 2 Questa sera sul canale 88 Alle 20 la rubrica sul mondo del lavoro Work in Progress Alle 20.30 il settimanale di approfondimento Zero Pollici Alle 21.55 Instant Future Alle 22.10 Italia Economia Alle 22.30 la seconda edizione del TG Sul canale 218 Antenna 2 News Alle 21.30 il telegiornale Alle 22.10 Zero Pollici Un servizio dedicato alle nuove opportunità Per il territorio messe a disposizione Dal GAL Valle Seriana Laghi Bergamaschi Il canale sportivo 628 Alle 20.30 il programma di motori Paddock Alle 22.30 la partita di calcio Pradalunghese e Juventina Covo Adesso l'Almanacco Domani è sabato 17 ottobre Il sole sorge alle 7.36 e tramonta Alle 18.35 la luna è nuova Sorge alle 8.08 e tramonta Alle 19.14 La chiesa ricorda Sant'Ignazio d'Antiochia È tutto anche per questa edizione Vi ricordo dopo il TG L'appuntamento con la rubrica Erbe e Salute E con le previsioni del tempo Buona serata Grazie a tutti 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 Grazie.